Cominciamo veramente, stavamo aspettando ancora qualche persona che sapevamo che doveva intervenire. Purtroppo devo annunciarvi che poco fa abbiamo avuto comunicazione dal sottosegretario alla disabilità, l'onorevole Vincenzo Zuccano, che non interverrà, in quanto il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, proprio ieri sera quando è tornato dall'Argentina, come sapete per il G20, ha convocato un tavolo di confronto con le maggiori associazioni FISH, FAND e i sottosegretari per fare il punto proprio in occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità. Quindi ci manda i suoi saluti insieme anche a quelli del Presidente del Consiglio, ma purtroppo non potrà intervenire proprio perché oggi pomeriggio è convocato questo tavolo di confronto con le associazioni. Questo è sembrato appunto alla Presidenza del Consiglio un momento importante anche per celebrare, fra virgolette, questa giornata. Comunque cominciamo noi. Allora, 3 dicembre, tutti gli anni superabile, il Contact Center integrato superabile dell'INAI, che sapete è un servizio multicanale, costituito da rivista, portale, col center, azioni sul territorio, eventi, organizza questo momento che non vuole essere mai celebrativo, quello del 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. Oggi capita proprio il 3 dicembre, in altri anni l'abbiamo spostato di data, forse avremmo fatto bene anche oggi perché c'è una concomitanza e questo è anche segno di un momento anche di rivitalizzazione del tessuto sociale, perché stamattina c'erano degli eventi, gli amici dell'INAI ci ricordavano che alcuni di loro sono ancora impegnati in un'iniziativa molto importante e che ci raggiungeranno più tardi. Stasera sappiamo che c'è il premio Braille dell'Unione Italiana Cechi, ci sono iniziative un po' dappertutto. Il nostro amico, dico amico perché è sempre presente ai nostri eventi del 3 dicembre, Alfredo Ferrante sta per scappare a Bruxelles perché domattina ci sarà un altro evento. Quindi diciamo che è un momento in cui rispetto al passato in cui a volte siamo stati solo noi come INAIL e come Superabile organizzare questa giornata, c'è un momento nuovo. Quindi lo voglio vedere in questo modo. Disability Pride è stato anticipato con un flash mob il primo dicembre, abbiamo qui infatti presente anche il coordinatore Presidente che ci aveva invitato. Quindi ci sono varie iniziative, adesso poi le ricorderemo, anzi se me le dite man mano che andiamo avanti io le ricordo volentieri perché questo fa in qualche modo parte anche del puzzle che vogliamo comporre. Superabile è sempre stato un laboratorio permanente delle diversità per favorire l'incontro, la riflessione oltre che a dare consulenza, a dare informazione, a dare orientamento e accompagnamento. Quindi vuole essere a disposizione di tutti, della gente, delle associazioni, degli addetti ai lavori. Quindi anche oggi noi siamo in questa veste anche per rilanciare questo messaggio che come INAIL e lo dirà meglio il Presidente è come Superabile nella nostra mission quotidiana, quella di essere insieme nella condivisione e nella reciprocità. Quindi nessuna lezione dall'alto ma semplicemente mettere a disposizione e condividere gli strumenti, strategie, interventi, come abbiamo anche scritto nel titolo del nostro convegno di oggi. Oggi, ne parlerà meglio dopo il Dottor Ferrante, affronteremo anche quello che l'ONU ci propone anche di innovativo quest'anno per la giornale internazionale delle persone con disabilità, ovvero l'empowerment delle persone con disabilità, addirittura collegato agli obiettivi dello sviluppo sostenibile e quindi c'è qualcosa di molto originale e qualcosa ancora di più profondo. Oggi comunque su tutti i giornali il monito che viene dall'ONU per questa giornata è che nessuno resti indietro e questo è quello che intendiamo anche noi proporre e ribadire in questa sede. E chi meglio di me e di tutti noi può farlo se non il Presidente dell'INAIL, illustrando quello che l'INAIL ha sposato come sua mission ancora prima che lo dicesse l'ONU, che nessuno resti indietro. Passo la parola al Presidente dell'INAIL Massimo De Felice.